Anticipazioni tempesta d'amore. Sabato 13 giugno 2020. Mariana dopo aver discusso con suo figlio trova inaspettatamente il conforto e il sostegno di Jessica. Disperata promette alla nuora che l'aiuterà a trovare il vestito da sposa perfetto. Aggiunge che mobiliterà tutti i suoi contatti per riuscirci. Eri però non si fida della madre. Sospetta un intrigo. Tim confessa qualcosa di molto importante a Franzi. Paul consiglia alla sua amica di portare pazienza. Tutto si sistemerà. Nadia d'altra parte trionfa perché la riconciliazione tra i due ragazzi sembra ormai impossibile. Grazie a tutti.